Wilso, staremo insieme per un altro po' di tempo. Abbiamo diverse settimane di quarantena ancora da fare, tu ed io. Conte ci rassicura, ma io la vedo male. Ieri ho visto un servizio. Dicono che il picco dei contagi avverrà più o meno in questo periodo. Dobbiamo essere pronti a resistere senza fare la spesa fino al primo maggio. Amazon ormai consegna solo bene di prima necessità. Così mi sono guardato un video di Giovanni Mucciaccia che spiega come farsi un paio di scarpe con le foglie di palma. Wilson, dovresti guardare anche tu su YouTube, c'è un sacco di roba. In due settimane ho imparato a fare un rigame con la carta igienica e una collana con i tappi delle bottiglie. E ho imparato a radermi la barba con le mani, con un tutorial. Ma come vedi non ha funzionato. Dobbiamo restare a casa. Tu e io non dobbiamo uscire per nessuno di voi, capito? Non mi direi che ti è venuta una voglia improvvisa di correre a lei aperta. Lo so. Lo so. Lo so. Grazie.